Ladri in azione al bar Beverly Hills, in strada a Cabalbi, ad accorgersi di quanto accaduto alla madre della titolare, una cinese di 26 anni, residente in città, che ha avvisato la polizia. I gnoti, nella notte, approfittando alla mancanza di allarme di video e sorveglianza, hanno forzato una finestra e sono entrate all'interno del locale, dove hanno razziato i biglietti del gratta e vinci per un valore di 6.500 euro. Non contenti, hanno anche asportato 400 euro che erano contenuti in un cassetto, dandosi poi alla fuga. Grazie a tutti.